Allora eccoci qui con Mario Albanese, migliore in campo di questa vittoria abbastanza convincente che è sembrata anche molto facile anche dal risultato, un 5-2 che insomma lascia poco spazio a polemiche Allora cosa ci puoi dire di questa partita, com'è andata? È stata una bella partita, fortunatamente ci hanno dato tutto il reverso giusto li abbiamo incominciato a segnare dall'inizio, non come altre volte, se la palla non entra ma è stata una bella prestazione, si vede che non ce la faccio proprio più e dedico questi gol alla mia futura scuola Perfetto, senti invece come squadra, come obiettivo personale quest'anno in classifica diciamo alla fine dove puntate da arrivare? Prima della fase eliminazione Prima, prima della fase eliminazione Sesto posto, quinto posto Va bene così All'incirca, speriamo bene Va bene, grazie Ciao